Sono Andrea Fioravanti, conduttore insieme a Luca Pirillo della strana coppia su www.radiofonica.com Sai che il 24 e 25 settembre si vota per eleggere i nostri rappresentanti universitari? Conosci l'opinione di ciascuna lista sui temi più importanti per il nostro Ateneo? Noi li abbiamo intervistati per voi, proprio qui, sul divano di radiofonica.com Come vi impegnerete per garantire anche il prossimo anno la copertura totale delle borse di studio? Come rappresentanza studentesca per garantire le borse di studio abbiamo già fatto tanto, abbiamo devoluto tutti i nostri fondi che hanno destinato alle attività culturali per le borse di studio. Ora è questione di attivarle e concretizzare quello che si è avviato più di due anni fa. Per garantire tutto credo che sia bisogno comunque di vedere tutta una politica universitaria. Ci sono tagli sprechi che devono essere devoluti agli studenti. Ad esempio è stato dal CDA una delibera ha disposto l'utilizzo di 1.500.000 euro per ricatalogare tutti i libri delle biblioteche. Sono soldi impensabili, uno spreco allucinante. Questi qui sono soldi con cui potremmo fare centinaia di borse di studio. Qua dobbiamo investire, tagliare e rivedere. La famosa spending review va vista anche per noi, però per un nostro meglio. Di certo il problema della copertura delle borse di studio è un problema che oramai conosciamo bene tutti quanti. In ogni caso la copertura totale può essere garantita dall'ente. Noi ci candidiamo anche alla Commissione Controllo A.D.S. proprio per questo, per cercare di fare tutto il possibile, proprio per cercare di garantire questa copertura totale. In realtà possiamo fare ben poco perché con i fondi e tutta la situazione di crisi che c'è, anche l'Adi su deve fare un paio di conti. Per quanto riguarda il nostro impegno c'è e c'è sempre stato. Inoltre c'è un lavoro continuativo con il CNSU, per cui anche nell'anno scorso, in tutta la vicenda dell'anno scorso, sulle borse di studio e sulla riforma rispetto al diritto allo studio, abbiamo avuto modo di approfondire il lavoro e di parlarne anche con membri del CNSU. Quindi ci muoveremo con questa linea. Noi quest'anno, come negli anni passati, stiamo facendo una forte campagna per sensibilizzare in generale tutti gli studenti e i cittadini su che cosa vuol dire diritto allo studio e in particolare che cosa vuol dire tutto il mondo legato alle borse di studio. L'anno scorso, con l'innalzamento della tassa regionale per il diritto allo studio, siamo riusciti, attraverso il nostro documento approvato, a far delegare tutti i soldi che entravano nella cassa della regione e dell'Adi su quei soldi per coprire tutti gli donne e i beneficiari di borsa di studio perché noi sappiamo invece che nel nostro Ateneo negli ultimi anni ci sono stati molti casi di donne non beneficiari. Se tutto va bene, l'anno scorso non ci sono stati, quest'anno ci impegneremo per non far avere di nuovo quel fenomeno. Quanto riguarda le borse di studio, noi di Rinascita Universitaria abbiamo fatto molto in questi tre anni di mandato in Consiglio dei Studenti. La prima battaglia che abbiamo vinto è quella di redestinare alle borse di studio il finanziamento destinato alle attività culturali per le associazioni universitarie. Questo redestinamento è fatto da 48.000 euro, quindi ci saranno 48 borse di studio da circa 1.000 euro l'una. Il bando partirà il 30 ottobre e si concluderà il 30 novembre. alle regioni, alla copertura, noi abbiamo una visione, molianza iniziale di tutti gli studenti, cioè tutti gli studenti hanno il diritto di iniziare alla pari e quindi i primi due anni di università i studenti per la borse di studio deve essere valutata in base al merito e al reddito. Dopodiché, nei anni seguenti, dobbiamo valutare le borse di studio e darle agli studenti meritevoli. Questo perché si parte da un principio di ugualianza e non di egualitarismo, che è tipico della sinistra. È un tema che di anno in anno si ripropone sempre con crescente criticità per tutto l'apparato degli studenti dell'Ateneo di Perugia. Chiedere ad oggi una copertura totale credo che sia assolutamente primario per ogni candidato in qualsiasi consesso, perché è legittimo che chi ha necessità di borse di studio ne faccia un uso per poter portare avanti con assoluta serenità la propria carriera da studente. Il problema si verifica nei casi in cui sono a beneficiare di borse di studio titolari che apparentemente o anche con una certa probabilità non ne dovrebbero assolutamente avere. In merito, l'Alleanza Universitaria si è battuta specialmente per ottenere una maggiore trasparenza nei confronti delle borse di studio che vengono erogate a studenti extracomunitari, ma non per nessun principio razzista assolutamente, questo è ben lungi da noi, ma semplicemente perché non sono sottoposto ad un controllo. Questo vuol dire che questi studenti fondamentalmente fanno richiesta di borse di studio dichiarando zero, dichiarano zero, non hanno reddito fondamentalmente, cosa che potrebbe essere assolutamente vera. Il problema è che ci vuole un riscontro reale e con dei dati da parte delle ambasciate e dei consolati richiamati in questione dai paesi d'appartenenza di questi ragazzi. Questo riscontro ad oggi non c'è, noi abbiamo chiesto tramite il nostro rappresentante dell'Adi su di ottenuto un protocollo di intesa con Guardia di Finanza ed altri organi di controllo affinché le ambasciate dei paesi da cui provengono questi ragazzi devono dare dei dati congrui o se non altro sottoscrivere quello che loro autocertificano. Parliamo di tasse universitarie. Vi impegnerete per mantenerle così o pensate che si debba cambiare? Per quanto concerne le tasse universitarie possiamo prendere atto comunque del crescente aumento dei costi che vanno ad affliggere le famiglie e noi in merito abbiamo chiesto una rateizzazione ulteriore di tutti i soldi che l'università chiede alle nostre famiglie e quindi di spalmare comunque durante l'arco accademico il pagamento delle tasse universitarie e quindi di prevedere più rate. Questo non le diminuirà considerevolmente perché la cifra rimarrà quella ma consentirà rate più agevoli e più uve d'elastica appunto alle famiglie. Parlare comunque di una riduzione delle tasse universitarie è abbastanza difficile perché i mezzi che ci sono a nostra disposizione sono sempre minori nel corso degli anni. Quello che posso assicurare che io in qualità se verrò ovviamente facendo i dovuti scongiuri eletto al Consiglio di Amministrazione sarà molto attento alla stilazione e alla rendicontazione di tutti i bilanci e eviterò qualsiasi sacca di spreco così da poter destinare qualsiasi fondo ulteriore eccedente appunto alla eventuale diminuzione delle tasse. Se riguarda invece le tasse universitarie crediamo che non sia giusto aumentarle di nuovo ci sono voci di corridoio che pensano a un aumento ulteriore delle nostre tasse universitarie crediamo che in passato siano state aumentate le tasse in maniera ingiustificata perché con l'aumento delle tasse non sono aumentati i servizi agli studenti quindi la nostra lotta in vari organi e per quanto mi riguarda in senato accademico se verrò eletto sarà quello di non far aumentare le tasse universitarie Secondo noi il sistema di tassazione universitaria va costruito in base al reddito quindi un sistema di fasce è più che positivo oltretutto se noi andiamo a vedere un po' di dati abbiamo una situazione per cui più del 50% dei soldi che entrano all'interno del nostro Ateneo sono dati non dal finanziamento dello Stato quindi dell'FFO che è il fondo finanziamento ordinario ma addirittura dalle tasse che paghiamo noi come studenti e le nostre famiglie questo secondo noi è un sistema sbagliato e quindi per noi va rifatta una fasciazione in base al reddito per tutte le principali tasse che colpiscono gli studenti del nostro Ateneo riguarda le tasse in realtà occorre effettivamente che ci sia un miglioramento dei servizi proprio offerti dall'Ateneo nei confronti degli studenti e noi ci impegneremo proprio da punto del programma elettorale affinché avvenga questo miglioramento dei servizi non seguito da un aumento della tassazione nei confronti degli studenti inoltre avevamo pensato a una modalità di tassazione che andasse a favorire gli studenti meritevoli ovvero studenti neodiplomati oppure laureati con voti di eccellenza per quanto riguarda il sistema delle tasse universitarie crediamo che comunque sia un'impostazione accettabile ricordiamo che bisogna rimanere entro il 20% di quello che è il fondo di finanziamento ordinario perciò l'importante sarà il controllo anche attraverso i rappresentanti che avremo in CDA di questo limite massimo altro punto importante secondo noi invece è la rivestione delle fasce I6 metodo che può essere contrastato perché non è detto che chi sta in una fascia alta abbia effettivamente una grande disposizione economica è un parametro che a detta di molti va rivisto altra cosa molto importante ad esempio determinate classi categorie come ad esempio gli studenti già laureati che partono direttamente in decima fascia per noi questo qui è assolutamente un'incongruenza che va risolta nel più breve tempo possibile perché a volte si nega veramente la possibilità ad uno studente volenteroso che si impegna di poter frequentare l'università liberamente